Prima occasione utile, prima entrare, prima fare. Bisogna accogliere questa occasione. Certamente. Un'addizione molto alta da parte degli arettini nel primo giorno di Open Day per la campagna vaccinale aperta agli over 40. In primis ringraziamo gli operatori sanitari che ci danno questa possibilità e speriamo bene. Sì, sì, assolutamente con tranquillità, sì, sì. Siamo felici di farlo. Chi per lavoro, chi per togliersi il pensiero, chi per anticipare una vaccinazione che altrimenti sarebbe ancora lontana. 300 le dosi disponibili al centro affari di Arezzo e 100 al teatro Tenda. Ce l'ho il 28 di luglio, però in questo modo sono più coperto. Perché ho bisogno di lavorare, ho bisogno di fare il vaccino, iniziano gli eventi, riparto i matrimoni. E sinceramente parlando, anche tutta questa polemica di AstraZeneca, sinceramente non mi tocca minimamente, lo faccio e lo faccio anche volentieri. In tutto 6 gli Open Day decisi dalla ASL Toscana Sud-Est con AstraZeneca. I prossimi saranno il 28 e il 30 di maggio, il 2, il 4 e il 6 di giugno. In tutto 3.000 le dosi per la provincia di Arezzo, 2.400 per quella di Siena e 1.600 per Grosseto. Avete raddoppiato qui gli operatori sanitari? Gli operatori erano partiti da due e adesso siamo quattro, mi sono messo anche io a fare un po' da supporto ai colleghi. Open Day adesso vanno avanti sicuramente fino al 6 giugno e poi vedremo, perché sicuramente ce ne saranno altre occasioni. Sempre con AstraZeneca o con Pfizer? Ma io dico che AstraZeneca, le dosi che abbiamo conservato, che non sono per le seconde dosi, possono essere usate per questo tipo di attività. Come si affronta questo momento? Con paure, timori? Vi siete informati? No, per ora con fame. Ho visto l'ora dalle sette e mezzo che siamo in fila.